probabilmente quando gli scienziati della nasa hanno visto per la prima volta queste immagini sono rimasti di stucco avranno pensato che su marte c'era un serpente in realtà questo non è un serpente ma è un immenso vortice di polvere una sorta di tornado una tromba d'aria alto circa 800 metri e largo 30 un turbine di vento come spesso ce ne sono su marte che spostano la polvere da una parte all'altra del pianeta noi siamo sempre in attesa della notizia che su marte c'è stata la vita dubito che ci sia ancora adesso ma probabilmente questa notizia arriverà più in là noi siamo sempre in attesa grazie alla prossima